Ammazzateli tutti! Tirando granada! Stiamo vincendo! 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 Stiamo vincendo un po' di destra. Attenti! R.C.XD nemico individuato! Stiamo vincendo! Bombardamento Napalm in attesa di ordini Cobra pronto Cobra in avvicinamento Approvvigionamenti nemici in avvicinamento Enemigo Explosivo fuera Valkyrie nemico sopra di voi Cui disponibile Cui alleato in arrivo R.C.XD alleato operativo R.C.XD nemico rilevato Bombardamento Napalm alleato in arrivo Il nostro SR-71 in volo Il blanco caiu Explosivo fuera Coño Hombre abajo Mirando explosivos Salendo il gas Il nostro aereo spia in volo R.C.R. Sì. RECARGANDO! ATTENTI! RCXD NEMICO INDIVIDUATO! RECARGANDO! Il nostro aereo spia è in volo! La vittoria è vicina! Stroncate ogni resistenza! GRANADA! RCXD alleato in arrivo! RECARGANDO! 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 Questa vittoria ha dimostrato la nostra forza.